Ogni anno nel mondo si combatte una guerra silenziosa e a perdere siamo tutti noi. Un delito che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case. La carbonara fatta a cazzo di carne. A cazzo di carne. A cazzo di carne. Non si usa la palla. Non ci vanno i diustra. Non si usa il prezzetto. Non esiste la carbonara reale. No! E' ora che tutti conoscano la verità. La verità. Uova. Guanciale. Peccorino. Peppe e niente più. No!